Sono partiti! E quindi Inter benfica! Già visto! Allora non ci avevamo capito niente. Porto, no, non ci sta capire niente. Porto, gol, Barcellona. Quindi Real Madrid e Napoli. Buono, buono, via. Allora, vedi. Fai, Leonardo, Dico Madrid, PSG Dortmund e... Manchester City-Vircia, no, no, via. È quello, via, andassi via. Manchester City-Vircia. Quindi noi o Paris Saint Germain, Borussia Dortmund o Feyenoord Atletico Madrid? Senza pochi problemi. Beh, Feyenoord Atletico Madrid è tristissima. Non c'erano di evitare sicuramente la real società. No, ecco. È come se siamo noi, eh. Che una siamo noi, che una sono loro. Quindi, oddio. F, ecco, PSG, Borussia Dortmund e quell'altra. Spero che c'è F a loro. F, va bene. F, va bene. Quindi noi abbiamo Feyenoord Atletico Madrid. Certo, che trasferta è schifo, no? No. Mo' mi riesce in quarta fascia. Perchè pure la quarta fascia? Newcastle. 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 Facciamo questo girone dei ritorni, no? F. Ha! Col Milan. A posto. Uno via. Union Berlino. Se evitiamo anche l'Union Berlino. Ah, non ci può capitare. A posto. Bene. Mi piace lo Celtic? Sì. Gruppo è il nostro. E Celtic. Fare il girone dei Roma Libro. Infatti lo scrivevo. Sì. Sì.